Siamo in presenza di Paola Radaelli, vicepresidente di ANRA, alla quale parliamo di cyber security e di big data. Nell'epoca di massiccio uso di big data, dove tutti siamo iperconnessi, quali sono i nuovi rischi collegati all'uso di questi strumenti? Noi sappiamo che le aziende si stanno evolvendo verso strumenti di utilizzo sempre maggiore della digitalizzazione. L'intelligenza artificiale ci porterà verso una necessità o un utilizzo dei dati ancora più esteso, quindi i dati saranno fondamentali per le aziende. Da questo deriva che questo comporta un aumento dei rischi. I rischi aumentano non solo perché i dati sono più interessanti ma anche perché, essendo le aziende più digitalizzate, aumentano sensibilmente gli accessi ai server aziendali. E' aumentato naturalmente le tipologie di strumenti che utilizziamo, non sono più solo i computer ma anche i telefoni, i tablet e tutti gli strumenti legati all'IoT. La politica del bring your own device ovviamente aumenta i rischi e le aziende devono necessariamente adeguarsi a queste necessità. Il trasferimento dei dati comporta dei suoi rischi specifici e sappiamo tutte le problematiche legate ai 5G. Quindi sappiamo che tutta l'area cyber è un'area molto delicata per le aziende. Quali strumenti abbiamo oggi e in che modo possiamo affrontare e gestire al meglio questi rischi? Ovviamente il rischio non può essere eliminato però può essere gestito. Il primo passaggio è una collaborazione stretta tra gli esperti del cyber e gli esperti di gestione dei rischi aziendali. Perché bisogna capire in modo molto preciso il collegamento di come e dove sono i dati e quali sono i dati indispensabili per l'azienda e l'impatto sul business aziendale. Quindi il passo successivo è individuare gli asset critici e non solo gli asset aziendali ma sono anche quei dati che per l'azienda sono indispensabili. O anche quei dati che per gli e-car possono essere più interessanti e quindi l'azienda potrebbe doversi trovare a pagare dei risarcimento significativi. Quindi il primo passaggio è questa collaborazione e poi tutti i soliti strumenti. Quindi ridurre gli accessi necessari, firewall, penetration test, vulnerability assessment e l'ultimo elemento che sembra magari scontato ma è importante quanto gli altri. La formazione, l'informazione e la consapevolezza del personale perché non c'è nulla rispetto ad attacchi tipo attacchi di phishing se non la consapevolezza delle persone che sappiano come reagire a rischio. La ringrazio per il suo intervento. Grazie a voi.